ciao ragazzi vi tiro verso di me in modo molto bimbo minchiesco e la messa a fuoco mi segue quindi sono felice andiamo a vedere le domande di questa settimana benvenuti in questo nuovo appuntamento di chi è nei tech dei non perdiamo tempo e iniziamo subito appena fatto cadere il telefono questo telefono il cordless che è morto ha suonato wow è appena risorto ragazzi che dobbiamo farcene del 3310 abbiamo il panasonic che poi panasonic voglio dire sorta di marca panasonic è quella che sta girando e fa dei video splendidi e quindi tu sei il panasonic non so come ti chiami da notare batteria removibile grande cordless lo posso buttare a questo punto quindi lo butto allora ragazzi benvenuti partiamo con la prima domanda che è di di johnny 29 io nei sunday ciao andrea al mobile world congress 2017 si è parlato poco di oppo che a mio avviso merita un approfondimento su questa nuova tecnologia della fotocamera secondo te questa innovazione in futuro diventerà uno standard allora io sono stato al mobile world congress sono stato allo stand di oppo ho provato quello smartphone che però è un concept non è uno smartphone vero quindi guarda devo dire bella bella perché aveva una buona stabilizzazione il telefono concept aveva uno zoom ottico fino a 5 per che però voglio dire non mi è sembrata un'innovazione così perché alla fine apple aveva fatto vedere la stessa cosa con il 2 per a settembre dello scorso anno quindi sono passati sei mesi non è che abbiano fatto chissà quale cosa hanno reso ancora più più ampio quello zoom passando dal 2 per di apple al 5 per voglio dire non hanno fatto niente di che hanno fatto ciò che fanno di solito le aziende cinesi cioè prendono la novità che porta il top brand e loro cercano di fare ancora meglio così poi potranno andare a dire not lo oppo e meglio di iphone compla compla not lo oppo meglio di iphone mannaggia sta suonando il telefono e non suona il telefono qui perché si lamenta mannaggia saranno dei call center torno subito pronto sì sì io non voglio parlare con lei perché mi sta disturbando voglio parlare con lei perché mi sta disturbando eh sì mi sta disturbando cosa no e siamo iscritti al registro delle opposizioni quindi non dovrebbe chiamare no le do il numero per andarsene a f***lo se vuole se non sa come fare da sola il numero de che ma non sai neanche di cosa parli non sai neanche di cosa parli vuoi il numero del registro delle opposizioni de che è de che tu non devi chiamare lo capisci che non devi chiamare ahhh ahhh io so che questa gente magari è disperata non può fare altro però stanno continuando a chiamare stanno continuando vabbè per fortuna non suona qua il telefono quindi ora faccio una bellissima cosa tanto vedete ah smesso smesso ok penso di aver opportunamente censurato quello che è stato detto perché sapete ripeto quando questa gente chiama io posso capire la il fatto che siano disperati che non possono fare altro tutto quello che volete ma dal momento in cui siamo registrati praticamente tutti ormai il registro delle opposizioni va vale dovrebbe valere la regola che tu non devi chiamare non devi fracassare e da un po di tempo a questa parte se voi fate addirittura ora avete sentito quella mi ha chiesto il numero del registro delle opposizioni cioè cosa deve verificare lei lei deve verificare mi da signore mi da numero registro opposizioni ma va va mi so fermato in tempo vabbè chi è nei rent questo no poi si tirano le parole perché tu già stai chiamando e non dovresti chiamare poi ti metti pure a fare l'indagine e quando li mandi male e dici che stanno disturbando loro ricominciano a chiamare a ripetizione che tenerelle che sono queste signorine vorrei sapere quanti contratti riescono a chiudere in una giornata e se questo giustifica la rottura di sfere poche che fanno a tutti noi ritorniamo al nostro video stavo dicendo della fotocamera di oppo chiudo velocemente non è nulla di che quindi assolutamente credo che potremmo vederla in futuro sui prossimi smartphone non solo di oppo gangsta joker 0505 ciao andrea perché l'iphone il huawei p10 altri telefoni stanno rinunciando al tasto fisico allora huawei in realtà il tasto fisico non l'ha mai avuto perché fino al p9 aveva i tasti di navigazione davanti non c'era niente hanno introdotto quest'anno un tasto home a sfioramento intelligente molto stile meizu che non si preme esattamente come non si preme il tasto home di iphone 7 però appunto c'è una differenza perché iphone 8 e galaxy s8 stanno forse rinunciando il galaxy s8 ha rinunciato l'iphone 8 forse rinuncerà a settembre al tasto home in generale questo perché perché se vuoi fare il telefono tutto schermo senza bordi il cerchietto o l'ovalino così lo devi togliere di mezzo ed è un qualcosa su cui si dovranno scontrare tutti i produttori se vorranno realizzare telefoni con cornici praticamente ridotti al minimo quindi questo è un discorso il discorso del tasto fisico è stato tolto da iphone 7 già e virtuale perché perché forse secondo me apple su iphone 8 farà la stessa cosa però farà scendere lo schermo anche sotto quel tasto home magari creando una zona una function area come è stata denominata quindi con altri tasti che siano 3d touch mentre nel caso di huawei col p10 hanno voluto cambiare secondo me nel momento sbagliato appunto perché poi magari tra un anno dovranno ricambiare e fare il telefono tutto cornici tutto senza cornici quindi è stata una scelta di marketing quella di huawei quella di apple una scelta secondo me funzionale luca capelli chi oi nei pensi che i video a 360 gradi siano stati un flop? vi ricordate? vi ricordate? quante volte? quante volte vi ho parlato di realtà virtuale di video a 360 gradi quante volte tutto youtube faceva video a 360 gradi tutto youtube indossava questi dannati caschetti e quante volte vi ho detto che sarebbero stati il nuovo 3d oggi chi fa video a 360 gradi? chi? pure i più truzzi youtuber italiani che abbiamo non fanno video a 360 gradi anche tutti i vari game player ormai il VR lo stanno abbandonando ragazzi ragazzi dai io sono particolarmente critico ok quindi magari non sarò la persona più imparziale a riguardo perché non ho mai creduto nel VR nei video a 360 gradi ma c'è un motivo nel senso era una moda e si è visto sarà che a me piace la qualità un video per me è quello che state guardando ora fatto con un cavalletto con la fotocamera che non è che si deve muovere così fatto con delle luci fatto con una buona fotocamera per me la qualità è questa per me è questo quello che diventa uno standard e resiste come standard perché tutto il resto i video a 360 gradi così come il VR se vogliamo estendere il discorso ai videogiochi l'esperienza VR oggi almeno per oggi è un qualcosa di molto più limitato rispetto ad un'esperienza valida dal punto di vista intanto grafico e poi anche di gameplay che si può ottenere con una console e con un gioco tradizionale quindi per imporsi un qualcosa deve essere qualitativamente valido i video a 360 gradi per me erano una grandissima strontata questo erano e infatti hanno dimostrato di esserlo perché? perché oggi nessuno più fa video a 360 gradi dai la qualità era bassissima era bruttissimo vedere sta mano puntata verso l'alto che poi ti guardavi in basso e vedevi la mano del tizio cioè una pacchianata proprio veramente devo chiedere alle tizie lì del call center se magari vogliono aiutarmi a fare un video a 360 gradi Frank Zamm a Q&A qualche anno fa c'era l'LG Optimus 3D che permetteva di guardare in 3D senza occhialini lo potremmo lo potremmo mai rivedere la potremmo mai rivedere questa funzionalità su uno smartphone capita a fagiolo questa domanda per completare quella precedente anche qui anche qui è un Q&A in cui sto più tempo zitto di quello che sto parlando insomma ma sono sgomentato sia dalla telefonata poi dal 360 gradi e dal 3D perché? perché sono tutte cose che i ragazzi vabbè lasciando stare la telefonata non hanno preso perché non sono delle innovazioni concrete quel telefono che aveva il 3D che funzionava bla 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 non ha convinto infatti non ha venduto infatti non se lo ricorda nessuno infatti non ne hanno fatto un altro la legge del mercato ha vinto e vince sempre perché ora si sta andando tutti nella direzione degli schermi appunto senza cornici perché si è visto da anni che è quello il trend che sta piacendo ed è quello che fa vendere smartphone se tu devi includere il pannello 3D sotto lo schermo intanto non riesci a fare un telefono sottile e oggi la gente vuole il telefono sottile e intanto probabilmente non riuscirai a fare un telefono con le cornici sottili perché probabilmente quella tecnologia ulteriore che devi integrare nel telefono ti dà fastidio al resto quindi non lo vedremo mai più forse un telefono 3D perché uno il 3D ha fallito su ogni su ogni campo ha fallito al cinema ha fallito in tv ha fallito sullo smartphone ha fallito nei visori il 3D ha fallito e quindi non lo vedremo più e sarà un bene contento contenti contento sì tanto no vabbè chiudo non ce l'ho col 3D però compromessi compromessi fino a quando ci sono più compromessi che vantaggi la cosa non si afferma evidentemente l'LG Optimus Prime 3D come si chiama aveva più compromessi che altro LG stessa non ci ha creduto più esempio recentissimo LG ha smesso di credere nei moduli perché quella modularità pensata da loro non andava bene questa aia mi ha tirato il nervo questa veramente un Q&A squallido questa modularità qui quella di Lenovo e di Motorola questa sì che è una buona modularità mo lasciate stare che ho solo la custodia però anche i moduli di lì ma questa è una buona modularità penso avrete già visto la recensione del telefono con un po' di ritardo sul canale ma questa è una giusta modularità se le cose si fanno bene si affermano se le cose si fanno male non si affermano il 3D fino ad oggi non è mai stato fatto bene smartphone cinema televisori simranit sing ce lo andiamo ma perché su iphone 6 e 6 plus non c'è il 3D touch perché? perché anche in questo caso non c'era un elemento hardware che è quello che consente l'utilizzo del 3D touch ossia il sensore il sensore per il feedback aptico o taptico che lo si voglia chiamare che è esclusiva di iphone 6s e iphone 7 e successivi e siamo arrivati all'ultima domanda qui è sempre difficile rispondere ma è quale smartphone mi consigli sui 200 euro direi che al momento non so a quanto lo si possa trovare perché poi i prezzi sui siti cambiano sempre però siamo là al massimo siamo un po' oltre i 200 euro ma resta secondo me lo smartphone migliore su questa fascia è uno smartphone asiatico che di conseguenza vi espone a determinate problematiche limitate lato garanzia lato software cinesi qua e là ma se poi lo configurate bene uno Xiaomi Redmi 4 Pro che appunto sta su quelle cifre secondo me è il miglior smartphone che si possa acquistare con 200 euro di sicuro si deve un po' lottare all'inizio con il software specialmente se non arriva con la ROM Global quindi quella che prevede anche l'italiano il Play Store già installato e tutto questo si deve un po' lottare flashare e così via però con un po' di esperienza si riesce a mettere tutto a posto ed avere in mano un telefono veramente eccellente Xiaomi Redmi 4 Pro è il mio consiglio altrimenti se vuoi andare su qualcosa di più semplice potresti andare su un Huawei P9 Lite su un Huawei P8 2017 siamo lì come prezzi quindi queste sono le opzioni bene ragazzi allora questo appuntamento con Q&A Tech Day finisce qui voglio ricominciare a fare una cosa che non facevo da un po' di tempo sia fare a voi una domanda ed è questa secondo voi la nuova tendenza degli smartphone di diventare non più grandi ma con schermi più grandi riducendo le cornici porterà solo a vantaggi o ci saranno anche degli svantaggi in sostanza vi comprerete uno smartphone tutto schermo in futuro o preferirete andare su smartphone tipo questo che è uno degli ultimi ancora con questi bei cornicioni forse anacronistici ma magari un po' più sicuri in caso di caduta fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate noi ci risentiamo al prossimo video ciao a tutti da Andrea Cervone per Tech grazie a tutti grazie a tutti